finiscono i vaccini al monaldi ore d'attesa aspettando i rifornimenti medici di base pronti al via delle vaccinazioni a domicilio scuola l'agrario cecchi si ampia con il nuovo convitto calcio tacchinardi e il nuovo allenatore del fano martedì 23 marzo buona serata benvenuti al nostro telegiornale l'edizione si apre parlando di vaccini di vaccinazione in modo particolare della campagna di vaccinazione nel nostro territorio oggi infatti c'è stata un'altra giornata complicata al punto vaccinale pesarese monaldi dove a metà mattinata le fiale sono terminate per un ritardo nei rifornimenti da parte della regione Marche allora noi eravamo lì vediamo il servizio hanno finito i vaccini dalle 10 e mezza che sono qui perché si sono finiti questi vaccini perché non sono arrivati prima e basta non sono organizzati bene già c'è chi è arrivato alle 10 e 30 oggi al centro vaccinale monaldi e alle 12 e 30 non aveva ancora alzato la manica per l'iniezione prenotata a tre giorni dalla chiusura del punto vaccinale della celletta è stata un'altra giornata molto complicata per il monaldi un ritardo nei rifornimenti delle fiale da recapitare al punto vaccinale ha infatti creato file ingorghi e attese perché poco prima delle 10 sono terminati i sieri disponibili e il trasporto dei rifornimenti è arrivato attorno alle 11 e un quarto cioè diverse ore dopo la tabella di Marche che la prevedeva all'orario d'apertura del punto vaccinale va da sé che ogni orario d'appuntamento che avevano gli ultraottantenni in fila è saltato di diverse ore personale sanitario e protezione civile non hanno potuto far altro che allargare le braccia di fronte ad un disservizio estraneo alle loro competenze c'è chi si è prenotato alla vaccinazione e si è ritrovato 100 persone che avevano la precedenza inevitabile che c'è chi abbia aspettato un paio d'ore prima di riuscire a vaccinarsi sostanzialmente intorno alle 10 sono venuti a mancare i vaccini e hanno tardato quasi un'ora per arrivare si ripete la storia che c'è stata già il 2 marzo quando hanno tardato addirittura di due ore e mezza la disorganizzazione è veramente una cosa intollerabile, inammissibile, inaccettabile perché i tempi si sanno che non ci siano i vaccini pronti nel luogo dove avviene la vaccinazione è una cosa vergognosa bisognerebbe che i dirigenti come succede in lombardia che fontana gli ha fatti dimettere vengano fatti dimettere e venga pubblicato il nome e cognome di queste persone incapaci e incompetenti che devono essere cacciati in malo modo perché non è tollerabile una disorganizzazione a questo livello e se ripetuta anche altre volte perché anche in modo alternato perché dei giorni funzionano e dei giorni non funzionano, questo vuol dire che c'è proprio la disorganizzazione e l'incompetenza sia a basso livello sia ad alto livello e la cosa non può continuare così è veramente una cosa indegna e indecorosa Disagi per una campagna vaccinale che aspetta di allargarsi anche ad altre categorie un'attesa ormai agli sgoccioli secondo il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli intervenuto oggi ad Ancona Credo questa sera Massimo Domani sarà online un sito che darà tutte le spiegazioni con gli slot che noi potremo mettere a disposizione per le prenotazioni e con le diverse e varie opportunità di vaccinazione come avverranno con i medici di medicina generale, con i punti vaccinali, con le imprese ci tengo a sottolineare che le imprese non toglieranno i vaccini ai fragili o ai disabili quando ci sarà distribuzione di un numero di vaccini importanti come previsto nel mese di aprile invece di tenerli nelle nostre strutture cercheremo di distribuirli più velocemente a una rete vaccinale che potrà così metterci in condizione di rendere immune prima possibile una parte importante della popolazione marchiciana il governo ci dice che i vaccini arriveranno in maniera abbondante già dalla fine di questo mese e dalla metà del prossimo mese di aprile e tra le novità sui vaccini c'è l'ormai imminente coinvolgimento dei medici di base nelle vaccinazioni a domicilio per le persone non deambulanti il presidente dell'ordine dei medici Paolo Maria Battistini ci spiega come si svolge la procedura ma anche le criticità che dovranno affrontare gli stessi medici devo confermare se ce ne fosse stato bisogno l'estrema disponibilità dei medici di medicina generale nei confronti dei propri pazienti perché non è sicuramente semplice organizzarsi da soli tra l'altro per una vaccinazione dei pazienti cosiddetti non deambulabili sì, ieri alcuni medici, non tutti, sono andati a ritirare le prime dosi e adesso si stanno organizzando verificando se nelle liste che sono state spedite dall'azienda sanitaria ci sono effettivamente pazienti non deambulabili oppure magari ci sia infiltrato anche qualcuno che non deambulabile non è quindi questo è il primo compito del medico di medicina generale detto questo ci sono alcune criticità, chiaramente ci sono perché alcuni medici fortunatamente nella nostra provincia molto pochi non hanno dato l'adesione alla campagna e quindi altri diciamo si troveranno nella eventualità di vaccinare anche pazienti che non sono iscritti loro iscritti e quindi che sono iscritti dei medici che non hanno aderito alla campagna l'altra criticità importante di cui se ne sta parlando proprio questi giorni stasera appunto ci sarà anche un webinar tra tutti i vari medici della nostra provincia è che una volta ritirate le dosi di vaccino ci sono delle tempistiche brevi per somministrarlo so per certo che stanno consegnando sia un flaconcino del vaccino AstraZeneca e sia del vaccino Moderna chi decide quale vaccino fare? chiaramente il medico di famiglia in base alle patologie che ha il proprio paziente deciderà se fare una tipologia o l'altra di vaccino quindi io pregherei i pazienti di non chiedere di voler fare un vaccino al posto dell'altro perché questo non è possibile l'AIFA ha cambiato dopo le varie vicissitudini il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca sconsigliandolo a pazienti che hanno patologie inerenti alla coagulazione del sangue e altre patologie cosiddette autoimmuni quindi chi meglio del medico di famiglia potrà dire a quale paziente e quale vaccino proporre al paziente stesso purtroppo una volta aperta la boccettina ci sono sei ore di tempo per vaccinare i propri pazienti questo vuol dire che siccome le dosi sono 11 in sei ore si devono vaccinare 11 pazienti e come si può ben capire c'è il medico di famiglia nel suo studio a altri pazienti non è un semplice vaccinatore basta e fare vaccinare 11 pazienti in un giorno non è una cosa possibile anche perché non è solo la vaccinazione una volta vaccinati devi rimanere 15 minuti per vedere se ci sono delle reazioni di tipo allergico per ogni paziente il medico deve mettere in preventivo circa 40-45 minuti di tempo e 45 minuti di tempo 11 pazienti in un giorno non si fanno quindi ci si dovrà coordinare con altri colleghi e questo è il consiglio che noi diamo in modo che non vadano sprecate queste dosi preziose di vaccini che arrivano comunque e sempre col contagocce è sempre più preoccupante purtroppo lo stato di sofferenza degli ospedali marchigiani l'aggiornamento di oggi del servizio sanitario regionale vede salire a 945 ricoverati attualmente nelle strutture ospedaliere marchigiane di cui 146 in terapia intensiva un piccolo dato incoraggiante arriva perlomeno dal dimezzamento rispetto a ieri della percentuale dei casi positivi rispetto ai tamponi che si attesta oggi al 15,2% nel dettaglio sono 405 i casi positivi nelle Marche su 2658 nuove diagnosi per un totale di 4522 tamponi i casi nella provincia di Pesaro Urbino sono 95 nella giornata di ieri si sono registrati anche 9 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19 Ed ora è il momento di parlare di edilizia scolastica dopo anni d'attesa l'Istituto Agrario Cecchi vedrà realizzato il suo nuovo convitto da 48 posti letto grazie al finanziamento di 3,7 milioni ottenuto dalla provincia vediamo il convitto tanto atteso sta per prendere forma la provincia di Pesaro Urbino si è aggiudicata un finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro per realizzare il nuovo convitto dell'Istituto Agrario Cecchi un risultato importantissimo per la scuola di Villa Caprile che ora avrà una nuova struttura di due piani con 16 camere, bagni e 48 posti letto per i suoi studenti forestieri questa è veramente un'opportunità penso alquanto importante non solo per l'Istituto Agrario Cecchi ma per il pesarese per la città di Pesaro avere un convitto nuovo dopo penso circa 30 anni che questa scuola lo aspetta sia un'occasione veramente importante e che possa creare le migliori condizioni per far sì che questa scuola sia sempre più legata al territorio sempre più attenta alle esigenze dell'utenza e che possa dare in una maniera ancora più incisiva le risposte adeguate agli istanze sia del mondo produttivo sia delle famiglie sia del territorio il progetto per l'ampliamento del Cecchi ha conquistato il primo posto nella graduatoria 2020 del piano regionale triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica un ampliamento che si inserisce in un progetto complessivo di circa 10 milioni di euro che prevede anche la creazione di un nuovo edificio scolastico con 11 nuove aule uffici e una palestra con servizi e spogliatoi ora il nuovo convitto sostituirà l'attuale dimora per studenti che presenta diverse carenze sempre più inadeguate al continuo dinamismo di nuove iscrizioni al Cecchi la struttura ha alcune difficoltà nel senso le camere ci sono interventi continui porte, camere la pavimentazione ovviamente è una struttura che avrebbe bisogno di essere completamente completamente rinnovata anche perché le esigenze dei ragazzi sono sempre più complesse sempre più particolari io penso che questa sia una scuola che sappia cogliere le istanze del territorio è una scuola ben radicata e ha saputo cogliere quelle che sono le opportunità che vengono anche dai vari assetti del mondo produttivo siamo una scuola che collabora con circa 300 aziende non solo del territorio pesarese ma del territorio della bassa romagna il territorio della provincia di Ancona e quindi ci sono collegamenti ci sono risposte e inoltre i nostri studenti oltre ad acquisire competenze non solo a livello culturale ma competenze professionalizzanti acquisiscono gli strumenti i contenuti e dei saperi che permettono loro di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria o altrimenti essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro continuiamo a parlare di scuola perché in un periodo di obbligata didattica distanza rimane in presenza l'attività laboratoriale del progetto Merachi che si è giudicato il bando aggregazione della regione Marche con un finanziamento di 45 mila euro laboratori sulla costituzione e sui diritti umani sono alcuni degli argomenti che portano in aula i ragazzi dell'associazione di sistema critico il progetto Merachi nato dal bando aggregazione della regione Marche della terza edizione come sistema critico nome legale critica pop e oggi abbiamo portato la scuola città penale di Pesaro il laboratorio diritti umani e costituzione questo è uno dei tre percorsi che abbiamo delineato gli altri sono gli speech cocktail dibattiti che facciamo già a Pesaro ormai da diversi anni e un nuovo format che è il Cineforum filosofico attività che verranno svolte nel corso di quest'anno insieme agli altri partner come Zoe e Tavolo Studenti che insieme a noi contribuiranno a aggregare e creare spazi per le persone Lutto nel mondo della ristorazione pesarese morto oggi a 91 anni Carlo Pensalfine in seguito a contagio da Covid-19 Pensalfine dagli anni 60 in poi è stato noto titolare di diversi locali fra il centro storico e la zona mare della città insegnando l'arte culinaria a generazioni di cuochi ristoratori pesaresi Oggi in consiglio regionale l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha assicurato che a fine pandemia sarà ripristinato il dipartimento materno infantile dell'ospedale San Salvatore di Pesaro accogliendo così la mozione presentata dal consigliere regionale Nicola Baiocchi un risultato importante dopo un'annata in cui a Pesaro si sono registrati 200 parti in meno rispetto all'anno precedente costringendo le future mamme a spostarsi fra Fano Urbino e Rimini Gli assessori comunali Riccardo Pozzi e Francesca Frenquellucci hanno annunciato oggi che il comune di Pesaro azzererà per i primi sei mesi del 2021 il canone patrimoniale a bar ristoranti e ambulanti per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico un'agevolazione importante che si abbinerà al 70% di sconto per le attività che chiederanno l'ampliamento di suolo pubblico occupabile Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ricordiamo come sempre il nostro numero di Whatsapp 370-366-7210 Oggi ci ha contattato telefonicamente la signora Maria una nostra telespettatrice che la scorsa settimana ha avuto una brutta sorpresa al cimitero centrale di Pesaro dove dall'oculo dei forni provvisori in cui giace il marito deceduto sette mesi fa sono stati rubati i fiori dai vasi che ornano il sepolcro che sia stata una bravata o un furto premeditato segnaliamo questo gesto incivile nella speranza che rimanga un caso isolato E continua ad arricchirsi il panisesto di Rossini TV nel Tg di ieri vi abbiamo anticipato che domani alle 21.30 trasmetteremo la prima puntata di BP Cube in forma ecco vedete qui un nuovo programma dedicato a impresa e innovazione che sarà preceduto da un'altra prima puntata quella della nutrizionista chilometro zero altro nuovo format che Rossini TV trasmetterà tutti i mercoledì alle 21.15 a partire da domani sarà la nutrizionista blogger Raffaella Bocchetti a tenervi compagnia in dieci puntate alla scoperta dei prodotti del territorio dei cuochi contadini e dei mercati agricoli il programma realizzato in collaborazione con Col Diretti Pesaro Urbino e il contributo della Camera di Commercio delle Marche E Rossini TV continua anche a celebrare la settimana della poesia assieme alle scuole superiori del territorio che partecipano al progetto Il pane e le rose dedicato all'arte della parola anche questa sera quindi vi proponiamo un video lettura una video lettura scusate delle poesie che ci sono state inviate dagli studenti dell'istituto Agrario Cecchi e la le mani protende all'eterno splendore abbandonata infine dallo scuro e gelido fratello che ha portato via con sé le nubi cariche di neri presagi come per incantesimo la terra dal suo madido grembo fa germogliare delicate gemme colorate sul verde tappeto steso al sole mentre il vento leggero piega le chiome maestose che neppure l'inverno ha bruciato e accarezza dolce i fiori appena nati specchio di stelle che nel cielo notturno di luce risplendono si avvicina la Pasqua e come ogni anno si può gustare un uovo di cioccolato sostenendo le iniziative dell'ANTA Associazione Nazionale Tumori vediamo come ogni anno proponiamo i prodotti tipicamente pasquali per sostenere l'attività di assistenza domiciliare oncologica e gratuita di Fondazione ANT è un'attività che facciamo da oltre 30 anni qua nel territorio e che abbiamo continuato a fare anche durante l'anno di pandemia nella provincia di Pesaro e Urbino sono state ben 415 le persone che hanno potuto beneficiare totalmente in modo gratuito dell'assistenza domiciliare di ANT questo come è possibile è possibile proprio iniziative come la Pasqua solidale per cui il contributo di ognuno di noi e dei nostri concittadini è fondamentale per continuare a sostenere questi servizi farlo è molto semplice basta scegliere per esempio in questo periodo un uovo ANT oppure una colomba noi appunto proponiamo uova di cioccolato extra fondente o al latte da 500 grammi senza glutine a fronte di una donazione minima di 15 euro ma anche la colomba classica appunto quindi con canditi a fronte da 750 grammi a fronte di una donazione di 15 euro ma quest'anno abbiamo anche altre possibilità una di queste è una cesta maletti con diversi prodotti all'interno quindi pensata come regalo appunto dedicato è un pochino più importante a fronte di una donazione da 35 euro e abbiamo anche l'iniziativa dell'uovo sospeso cioè si può scegliere di raddoppiare la solidarietà e questo lo si fa grazie alla scelta appunto di regalare l'uovo a una delle realtà del territorio ai beneficiari di Aias Anfas o Caritas come è possibile fare il proprio ordine per la Pasqua solidale è molto semplice noi siamo aperti nelle nostre due sedi a Pesaro in via Ortigara 8 e in corso 11 settembre 217 ma siamo anche online con la nostra pagina Facebook Ant nelle Marche e il nostro sito www.ant.it slash Marche abbiamo anche un e-commerce dove poter acquistare direttamente i prodotti che è ant.it slash store quest'anno consegniamo anche a casa o dove insomma ci venga richiesto a fronte di una donazione minima di 30 euro è possibile anche contattare Daniela al 348 2626 147 o Iara al 347 522 9625 ed è il momento di concludere questa edizione del telegiornale con lo sport dopo le dimissioni di Flavio Destro la società Granata ha presentato questa mattina il nuovo tecnico Alessio Tacchinardi sarà l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale quindi a guidare l'alma in questo rush finale di campionato che comincerà proprio domenica nel derby con la Vispesaro e quando mi è stata fatta la chiamata penso di avere fatto percepire alla società i valori che mi hanno sempre contato di istinto quello di battagliare di andare a lavorare al massimo delle mie possibilità delle mie competenze delle mie conoscenze in un ambiente dove ho anche io la percezione che posso fare bene ma oggi non mi interessa obiettivamente far bene a me ma far bene per la società che mi ha scelto darò il massimo per loro perché quando vieni ripagato dalla fiducia dai qualcosa in più o meno io sono una persona così e poi voglio dare voglio già dare da domenica una soddisfazione grande ai tifosi perché so che partita andiamo a affrontare e sicuramente guarda non vedo l'ora di giocarla ma soprattutto non vedo l'ora di conoscere i ragazzi per farli percepire che ci sono momenti in una stagione delicati difficili ma nel calcio basta veramente poco una scintilla per ritornare a essere protagonisti quando mi viene data la fiducia do tutto me stesso anche di più spero non dico che sono convinto ma spero di riuscire a testa dei giocatori il prima possibile perché abbiamo come diceva Alpressa sei finali e sono sei finali da giocare lasciando tutto sul campo lasciando tutto sul campo con grande mentalità con grande ambizione con grande personalità e umiltà secondo me possiamo far bene e allora davvero in bocca al lupo ad Alessio Tacchinardi adesso invece andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV questa sera alle 21.15 torna una nuova puntata di giocarte questo format televisivo dedicato ai bambini e poi ancora alle 21.30 invece vi faremo vedere quella che è stata la giornata nazionale della gentilezza un servizio che abbiamo ripreso a Padiglione di Tavuglia in collaborazione appunto con il comune di Tavuglia e con la sindaca Francesca Paolucci non perdetevi questo appuntamento ma vi ricordiamo anche Generazione Silver a partire da giovedì alle ore 19 troverete una nuova edizione di questo format dedicato alla terza età con tante informazioni utili anche a livello pratico queste sono tutte le repliche sapete che la prima messa in onda il giovedì alle 19 sarà anche in diretta a Facebook ma la stessa puntata verrà replicata anche i giorni a seguire e allora ho detto davvero tutto state collegati su Rossini TV sul canale 633 seguiteci in streaming sul nostro sito rossinitv.it oppure sui nostri social Facebook e Instagram vi auguro buona serata e vi ricordo la rassegna stampa di domani alle 7.20 e vi ricordo